Giuliana Esposito, ieri qui a Stecca, la presentazione di Cultura Crea, una misura di Invitalia pensata per le imprese culturali e turistiche. Come è andata? È andata benissimo, abbiamo proposto un ciclo di incontri dedicati ad una misura dedicata alle imprese turistiche e culturali proprio perché sappiamo di vivere un territorio che ha una vocazione turistica e culturale con l'idea quindi di stimolare la produzione di nuove imprese e di nuovi servizi a supporto di questi settori proponendo più competenze e più opportunità per chi vuole fare impresa in questo senso. Quindi che cosa vuol dire fare impresa con la cultura e nello stesso tempo rassicurare chi vuole fare impresa con la cultura perché ci sono tutti gli strumenti per poterlo fare. C'è innanzitutto l'incubatore, c'è Stecca che è a disposizione di chi voglia trasformare un'idea in un progetto impenditoriale, c'è sempre Invitalia, ieri era presente con noi Vittorio Fresa il responsabile della misura che è sempre disponibile, anzi sempre propositivo perché è un vesuviano quindi ha sempre a cuore la proposta che viene da questo territorio. E ci sono le competenze che ruotano intorno a Stecca quindi c'era questo nuovo partner tecnico, Safe Consulting che ci ha supportato nella presentazione di quelli che sono gli aspetti tecnici previsti dalla misura Cultura Crea. C'era l'istituto bancario della città, c'era la banca di credito popolare per sottolineare quelli che sono gli aspetti importanti per la banca perché parliamo comunque di un finanziamento che ha fondo perduto e un finanziamento comunque a tasso agevolato per gli aspiranti imprenditori e per le imprese. Come proseguiranno questi incontri? Ci saranno degli appuntamenti dedicati ogni mercoledì alle 15.30 abbiamo immaginato una modalità in presenza e online quindi tutti gli appuntamenti compresi quelli della prossima settimana saranno sempre con questa doppia modalità proprio perché la condizione pandemica non ci permette di ospitare ancora grandi platee ma vogliamo comunque dare ampio respiro a questa manifestazione. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al titolo secondo quindi per le start up, per gli aspiranti imprenditori e per le imprese costituite non oltre 36 mesi. La settimana successiva invece sarà dedicata al consolidamento e alla crescita aziendale e il terzo appuntamento che sarà il 30 marzo dedicato invece al terzo settore. Quindi tocchiamo i tre titoli previsti dalla misura Cultura Crea con un approccio molto pragmatico. Saremo qui con i nostri consulenti a rispondere alle domande, supportare con un'attività consulenziale e a supportare anche successivamente coloro che vorranno presentare la domanda. Dove è possibile seguire la diretta? Sulla pagina Facebook di Stecca e sul sito di Self Consulting all'indirizzo selfconsulting.eu.